Ieri sera abbiamo fatto una lunga chiacchierata anche col mister, io sono molto pragmatico e credo che sia impensabile risolvere i temi o i problemi nei momenti di difficoltà abbandonando un progetto che dal primo momento abbiamo detto che si tratta di un progetto pluriennale e non si può pensare di abbandonare la strada di un progetto dopo otto mesi, nove mesi di attività di un tecnico o di calciatori che cominciano ad essere coinvolti in questo percorso. Spalletti deve avere la nostra fiducia, ha la nostra fiducia, deve lavorare, fra 60 giorni inizia un nuovo appuntamento e non possiamo pensare che con altri atti diversi da quelle scelte che noi abbiamo condiviso ieri sera con Luciano e con tutti i ragazzi si possa in 60 giorni pensare che attuando quegli atti improvvisamente in Italia fioriscono i Mappé, i Cristiano Ronaldo e i Messi, ci vuole pazienza. L'obiettivo 2026 è un obiettivo reale, siamo tutti coscienti, consapevoli che sarebbe un disastro inimmaginabile non poter centrare una qualificazione per la terza volta ad un campionato del mondo ma questo non è solo per il risultato fino a se stesso, vuol dire che ancora una volta non siamo stati in grado di trovare la soluzione con un progetto che sia in grado di poter dare risposte concrete nell'immediato.